E Party For Art è una festa, quest'anno celebriamo tre anni di attività di Asteria Spese, abbiamo deciso di farlo festeggiando in grande stile perché dopo due anni di chiusura e di momenti in cui l'arte si fermava e ripartiva in maniera un po' timida, finalmente ora si può ripartire alla grande e quindi abbiamo deciso di celebrare questi tre anni nell'ambito della festa della musica come sempre con un evento che riunisce musica, teatro e arte visiva James Session Musicali insieme a performance teatrali più una mostra, una mostra di un giovanissimo artista Antonio Tricario che è emergente dal titolo Mostri E' un momento importante per noi e ci auguriamo che sia davvero un party, davvero una ripartenza in grande stile e davvero un momento per poter celebrare non solo questi tre anni di vita dell'Agenzia ma davvero una ripresa del nostro settore con l'artistico-culturale a tutti gli effetti a tutti gli effetti